Amici Android Blog, siamo allo stand HTC del Mobile World Congress 2014. HTC che è rimasta un pochettino sottotono in questa manifestazione spagnola, ha presentato un solo device che non è neanche un top di gamma, ovviamente, si colloca nel segmento mid-range, e parliamo di Desire 816, che possiamo vedere purtroppo solo attraverso questa teca, perché non vi sono esemplari da poter toccare con mano in prova, supponiamo magari perché ancora non è completo a livello di software. Il telefono è comunque un terminale piuttosto importante a livello di dimensioni, perché misura 156,6 mm di lunghezza, 78,7 di larghezza e 8 di spessore, per un peso di 165 grammi, questo perché è dotato di un display da ben 5.5 pollici con risoluzione solo HD, è mosso tra l'altro da uno Snapdragon 400, quad core da 1.6 GHz. Questo HTC presenta comunque, come in tutta la gamma moderna HTC, gli speaker frontali sopra e sotto il display, per un audio in stereo. È dotato quindi di le caratteristiche standard e di una batteria da 2600 mAh. Purtroppo di più non possiamo dirvi a livello di prestazioni se questo Snapdragon 400 riesce a far muovere bene il tutto. Per questo video per ora quindi è tutto. Un saluto da Alessio per Androidblog.it